mamma mia mamma mia mi sono svegliato dal pisolino ma fa ancora molto caldo il glicine da fuori non muove nemmeno una foglia persino il suono dell'acqua e della fontana che di solito mi dà sollievo oggi mi fa sentire ancora più caldo soffocato con me dal canto delle cicale meglio chiamare i servi con i ventagli disse Uji dai nagontakakuni come dite se della gente era donata in strada corro subito anch'io seguitemi giovani e non dimenticate quei grossi ventagli signori sono Takakuni perdonate il mio abbigliamento così discinto oggi ho una richiesta per voi per questo ho fatto sosta qui a Uji mi è venuta l'idea di scrivere un libro di racconti come va di moda ultimamente ma per quanto ci abbia pensato purtroppo io non conosco storie degne di essere narrate e per un pigrone come me non c'è nulla di più faticoso di spreversi le meninzi così ho deciso che da oggi in poi verrò a chiedervi di raccontarmi le storie antiche che conoscete affinché io possa metterle insieme in una raccolta frequento spesso il palazzo imperiale e salgo di continuo su navi e carri di sicuro raccoglierò una gran quantità di aneddoti e fatti curiosi so che è una gran seccatura ma signori potreste aiutarmi anche voi come? mi aiuterete? è magnifico allora ascolterò i vostri racconti a turno ragazzi la stanza deve essere ventilata forza con quei ventagli così staremo un po' più al fresco fonditore seramista prego entrate venite pure qui vicino allo scrittorio venditrice di sushi se siete troppo vicini al sole lasciate il vostro cesto là nell'angolo anche voi bonzo appoggiate pure il vostro tamburo dorato voi samurai e voi yamabushi avete steso per terra le vostre stuoie bene adesso ci siamo sistemati tutti seramista siete pronto? vi andrebbe di essere il primo? il vecchio seramista iniziò il suo racconto vi ringrazio per la vostra gentile accoglienza chiedere a una persona di umili origini come me di narrare una storia per la vostra raccolta di per sé mi spaventa molto ma so che se dovessi rifiutarmi vi contrarierei così vi racconterò una semplice comunissima storia di tanto tempo fa potrebbe essere un po' noiosa ma vi prego ascoltatemi per qualche minuto quando ero giovane a Nara viveva un bonzo chiamato Eyn era archivista imperiale e aveva un naso lunghissimo la sua punta era spaventosamente rossa per tutto l'anno come se fosse stata punta da un'ape per questo l'agente di Nara aveva preso a soprannominarlo l'archivista Nasone ma dal momento che questo nomignolo era troppo lungo lo chiamarono più semplicemente Eynasone dopo un po' di tempo però anche il secondo nomignolo sembrò troppo lungo e alla fine tornarono all'archivista Nasone stavolta pronunciato a mo' di filastrocca in quel periodo mi recai al tempio di Kofukuji di Nara un paio di volte e in effetti quel gran naso da Tengu parve straordinariamente rosso anche a me una notte il bonzo Eyn detto Eynasone o l'archivista Nasone si recò al vicino laghetto su Rusava da solo senza il suo assistente e sulla riva ornata dai salici affisso un cartello con una scritta caratteri cubitali nel giorno 3 di marzo un dragone emergerà da questo lago in realtà Eyn non sapeva affatto se nel letto del lago vivesse un dragone inutile dire che la sua ascensione al cielo del 3 di marzo era una colossale panzana e tra le due eventualità l'unica certa era che non ci sarebbe stata alcuna ascensione Eyn si era inventato questa messa in scena solo perché era molto amareggiato tutti gli abitanti di Nara religiosi e non si prendevano gioco del suo naso Per questo aveva architettato quello scherzo Stavolta li avrebbe fregati tutti e a ridere della grossa una volta tanto sarebbe stato lui Una cosa del genere vi sembrerà ridicola ma il mio è un racconto di tanto tempo fa e allora sceneggiate del genere erano piuttosto frequenti Il giorno dopo la prima persona che vide il cartello fu una vecchia che andava a Kofukuji ogni mattina per pregare Buddha con il rosario ben stretto in mano stava camminando di buon passo in direzione del tempio aiutata da un bastone di bambù Giunta in prossimità del lago ancora avvolto nella nebbia del mattino e nascosto dall'ombra dei salici piangenti vide qualcosa che il giorno prima non c'era Cosa ci facesse un cartello che annunciava una funzione buddista in un posto come quello era un mistero ma non riuscendo a leggerne i caratteri stava per tirare dritto Per fortuna in quel momento vide passare il bonzo vestito con abiti da cerimonia così gli chiese di leggerglieli Chiunque sarebbe rimasto sorpreso da quanto c'era scritto Nel giorno 3 di marzo un dragone emergerà da questo lago Stupefatta la vecchina allungò il suo corpo curvo e alzò la testa rivolgendosi al monaco In questo lago vive un dragone Tanto tempo fa le rispose pagato il bonzo come se stesse spiegando un sermone Uno studioso cinese aveva una cisti su un sopracciglio che gli pizzicava terribilmente Un giorno il cielo si oscurò all'improvviso e iniziò a piovere a catinelle A un certo punto la cisti si aprì e ne uscì un drago nero che secondo quanto si racconta si alzò in volo avvolto da nuvole nere e ascese fino al cielo Se un drago può vivere dentro una cisti chissà quante decine di draghi o serpenti venenosi potrebbero annidarsi in questo lago Non vi pare? La vecchia convinta da sempre che i monaci non dicessero mai menzogne commentò timidamente In effetti ora che me lo dite l'acqua che si vede laggiù ha un colore strano E benché non fosse ancora il 3 di marzo fuggì via sospirando una preghiera buddista senza nemmeno aiutarsi col bastone lasciandosi il monaco alle spalle L'uomo stava quasi per piegarsi in due da ridere se non fosse stato per lo sguardo della gente intorno a loro Le cose andarono proprio così ma in fondo era normale Già la sera prima Ayn l'archivista conosciuto come Aynasone razzolava come una gallina in quella zona con la speranza che qualcuno passasse di lì leggendo il cartello iniziasse a guardare con sospetto l'acqua del lago Dopo la vecchina vide passare un altro viandante mattiniero Era una donna seguita dalla sua serva indossava una veste decorata con disegni di insetti e sulle spalle portava un bagaglio Si fermò a leggere il cartello all'ombra del suo ombrello Ayn dovette impegnarsi molto per soffocare le risate Si fermò anche lui davanti al cartello e abbassò la testa facendo finta di leggere Poi si soffiò rumorosamente l'enorme naso rosso e se ne tornò a Kofukuji Giunto di fronte alla porta sud del tempio si imbatte inaspettatamente nel bonzo Emon suo compagno di cella Quando lo vide Emon inarcò le sue folte sopracciglia Sei insolitamente mattiniero oggi Cambierà il tempo Altro che se cambierà ribatte prontamente Eyn arricciando il naso in un'espressione agitata Cambierà e come? Non hai saputo Un dragone emergerà dal sur e ascenderà in cielo Per un attimo Emon parve dubbioso Poi guardò il volto di Eyn e scoppiò in una risata fragorosa Che bel sogno hai fatto Sai sognare un drago che vola in cielo è di buon auspicio gli disse sollevando la sua testa tonda e cercando di proseguire oltre Ma Eyn sussurrò qualcosa come se stesse parlando tra sé e sé E' proprio vero gli esseri senza fede sono irrecuperabili Inviperito Eyn si voltò di scatto con una violenza tale che i suoi calzari da pioggia si piegarono Poi prese a incalzarlo con quella che sembrava un'autentica disputa buddista Dici che un drago scenderà al cielo Ma ne hai le prove? Eyn rimase calmo Si era preparato a rispondere a una domanda del genere Se dubiti delle mie parole va a leggere cosa c'è scritto su quel cartello laggiù all'ombra dei salici Gli rispose in tono sprezzante indicando il lago ormai illuminato dal sole Persino l'ostinato Emon si sentì un po' interdetto di fronte a quella risposta così pronta Come fosse stato abbagliato da qualcosa replicò con voce spenta Ah hanno messo un cartello apposta e se ne andò a passo svelto stavolta con la testa inclinata come se stesse pensando a qualcosa Potete immaginare lo stupore di Ein detto Einasone nel vederlo allontanarsi Poi mentre passava sulle pietre all'ingresso del portale sud del tempio non riuscì a trattenersi e scoppiò a ridere Nel giorno 3 di marzo un dragone emergerà da questo lago In una sola mattina quel cartello aveva già avuto un'efficacia incredibile Nel giro di un paio di giorni non c'era angolo di Nara in cui non si parlasse del dragone del laghetto Surusava Naturalmente c'era anche qualcuno che lo considerava uno scherzo ma visto che anche nella capitale dirava voce che il drago dello Shin Senen sarebbe asceso nei cieli persino i più scettici cominciarono a credere che quell'evento straordinario sarebbe potuto succedere per davvero E in effetti una decina di giorni dopo accadde qualcosa di incredibile Una sera la figlia del gran sacerdote del santuario Casciuga di nove anni stava sonnecchiando sulle ginocchia della madre quando dal cielo scese come una nuvola un dragone nero che disse parlando la lingua degli uomini Il giorno 3 di marzo infine ascenderò nei cieli ma non abbiate paura non ho alcuna intenzione di farvi del male La bambina si svegliò e raccontò tutto alla madre In un attimo il sogno del dragone del sur usava fu sulla bocca di tutti ma venne subito alterato in mille modi diversi Ci fu chi parlò di una bambina posseduta da un drago Una sacerdotessa invece disse che il drago era apparso anche a lei sotto forma di oracolo Un uomo giurò addirittura di averlo visto coi propri occhi dalla testa alla punta della coda sebbene nessuno si aspettasse di vedere emergere dal letto del sur usava anche solo la sua cresta C'era un vecchio che andava al mercato ogni giorno per vendere il pesce Un giorno mentre era ancora buio di fronte alle acque del sur usava increspate dalle prime luci dell'alba gli sembrò di intravedere un cartello affisso sulla riva dei salici chissà se il dragone divino si farà vedere si era chiesto tremante un po' per paura un po' per eccitazione erano proprio i giorni in cui le voci sull'ascensione stavano impazzando così appoggiò a terra il suo canestro con i pesci e incuriosito si avvicinò con passo felpato per dare un'occhiata sotto la limpida superficie dell'acqua vide qualcosa simile a una catena nera raggomitolata su se stessa poi forse spaventata dal rumore di passi umani si srotolò e in un baleno scomparve dalla vista dell'uomo sollevando una colonna d'acqua che giunse fino in superficie vedendo quella scena il vecchio pescatore sudò freddo e corse via fin dove aveva lasciato il suo canestro in quel momento si accorse che mancavano all'appello un gran numero di carpe che avrebbe dovuto vendere al mercato ve le avrà fregate qualche lontra lo derisero alcuni quando raccontò l'episodio ma molti altri dissero anche che le lontre non vivono nei laghi non avevano dubbi si era trattato del dragone divino spinto a compassione aveva deciso di salvare la vita a quei pesci accogliendoli nel suo lago il buon gioenasone ridacchiò soddisfatto confiando le narici del suo enorme naso il cartello con la scritta nel giorno di 3 marzo un dragone emergerà da questo lago era sulla bocca di tutti ma rimase sbalordito quando alcuni giorni prima della fatidica data si presentò da lui la zia una sacerdotessa del tempio Sakurai nel paese di Setsu gli disse che aveva fatto tutta quella strada perché voleva assolutamente essere presente quando il dragone sarebbe salito in cielo sentendo quelle parole perfino Ein si sentì in imbarazzo avrebbe cercato di convincerla a tornare a Sakurai in tutti i modi con le buone o con le cattive ma quella donna ostinata non si fece persuadere dalle parole del nipote a una certa età disse se riuscirò a vedere il drago divino e a venerarlo poi potrò anche morire ormai era tardi per confessare che era stato lui ad affiggere il cartello e che era tutto uno scherzo alla fine si arrese non solo si sarebbe dovuto prendere cura della zia fino al 3 di marzo ma dovette anche prometterle che sarebbero andati insieme ad assistere all'ascensione del drago ma se persino la zia aveva saputo del dragone a Setsu allora la voce doveva essersi sparsa anche a Cavacci e a Izumi e chissà magari era giunta fino alla rima Yamashiro Omi e Tamba insomma in ogni angolo del Giappone quello che era nato come uno scherzo diretto ai soli abitanti di Nara giovani e vecchi aveva finito quel coinvolgere decine di migliaia di sconosciuti sparsi in tutto il paese a pensarsi più che divertito Eyn si sentì un po' spaventato mentre accompagnava la zia sacerdotessa a visitare i templi di Nara si sentiva come un criminale che cercava di nascondersi alla vista delle guardie ma quando di tanto in tanto sentiva dai passanti che qualcuno aveva sistemato fiori e incenso davanti al suo cartello si sentiva felice come se avesse raggiunto chissà quale traguardo i giorni passarono e infine giunse il 3 di marzo la data dell'ascensione del drago non potendo fare diversamente eyn accompagnò di malavoglia la zia sui gradoni del portale sud del Kofukushi per poter osservare il laghetto surusava quel giorno il cielo era limpido non un filo di vento muoveva la campana del tempio Karachi Izumi Setsu Arima Yashimiro Omi Tamba in trepidante attesa per quell'evento straordinario si era radunata gente da ogni dove per non parlare degli abitanti di Nara alla cima dei gradoni si vedeva solo un mare di persone un'onda chiassosa di copricapo che si stendeva perdita d'occhio sino a Nigio avvolta nella foschia dovunque c'erano carri decorati con nastri rossi blu ed eleganti rifiniture i loro tettucci rivestiti da lamine d'oro ed argento riflettevano abbaglianti i raggi del sole di primavera molti sistemavano degli ombrelli parasole altri appendevano striscioni altri ancora allestivano banchetti ai bordi della strada seppur fuori stagione attorno al laghetto c'era la tipica atmosfera di quelle cerimonie che si tengono lungo le rive del fiume camo mai il bonzo in si sarebbe sognato che per generare tutto quel trambusto bastava affiggere un cartello santo cielo quanta gente esclamò stupefatto rivolgendosi alla zia aveva una voce da cane bastonato si accovacciò vicino a una delle colonne del portale così sconsolato che persino il suo nasone non fischiava più ma la zia sacerdotessa era ben lontana dal capire cosa rimuginasse il nipote sporgeva così tanto in avanti la sua testa incappucciata da rischiare di cadere certo che da quassù la vista del lago dove vive il drago è davvero meravigliosa con tutta questa gente il dio dragone si manifesterà di sicuro vero? continuava a chiedere ansiosa a Ehin non potendo restare ancora a lungo appoggiato alla colonna il bonzo si alzò svogliatamente e osservò la folla in mezzo a quel mare di momi e boshi e copricapo da samurai scorse una testa che spiccava sulle altre tonda come una ciotola era Emon che guardava attentamente in direzione del lago lo stato di depressione in cui Ehin era rimasto fino a quel momento lasciò di colpo spazio e il compiacimento per aver fregato persino lui fratello anche tu qua per vedere il dragone gli chiese in tono canzonatorio Emon si voltò altezzoso poi aggrottò le folte sopracciglia in un'espressione insolitamente seria già ma penso che si farà tendere parecchio Ehin guardò il mare di folla attorno a Sarusava e si sentì nuovamente depresso come prima ormai è qualcosa di più grande di me mormorò con voce afflitta l'acqua del laghetto inondata dalla luce del sole apparentemente già tiepida rifletteva nitidi i profili dei salici e dei ciliegi ma non dava la minima impressione che il drago stesse pervenire in superficie forse a causa di tutta quella gente accalcata sulle sue rive quel giorno il lago sembrava più piccolo del solito dando la sensazione che la storia del drago potesse effettivamente essere una menzogna tuttavia i presenti continuarono a rimanere con il fiato sospeso incuranti del passare delle ore il flusso di persone che transitavano sotto il portale si faceva sempre più copioso e stavano arrivando così tanti carri che a volte si urtavano tra di loro immaginate quanto Ian si sentì scoraggiato nel vedere quello spettacolo a un certo punto però gli accadde qualcosa di strano per chissà quale motivo nel suo cuore si convinse che il drago sarebbe asceso per davvero per la prima volta sentì che non era un evento impossibile sarebbe successo qualcosa di straordinario in fondo guardando quell'onda di Eboshi muoversi là sotto sarebbe stato improbabile che proprio colui che aveva affisso il cartello non ne fosse persuaso forse senza rendersene conto si era lasciato influenzare dall'entusiasmo di tutte quelle persone oppure si sentiva così in colpa per aver affisso quel cartello che sarebbe stato ben contento se il drago fosse asceso per davvero qualunque fosse la ragione e benché fosse consapevole di essere la causa di tutto il suo animo si stava rasserenando sempre più tanto che lui stesso cominciò a fissare la superficie del lago con la stessa profonda devozione della zia altra parte se non ci avesse creduto per davvero non sarebbe rimasto tutto quel tempo sulla sommità del portale sud per assistere al tanto agognato prodigio maessa rusava continuava a riflettere i raggi del sole primaverile senza la minima increspatura mentre nel cielo terzo non c'era nulla che ricordasse una nuvola e tuttavia la folla continuava ad accalcarsi all'ombra dei parasole sotto gli striscioni alle ringhiere dei banchetti senza minimamente badare al sole che si muoveva lento e implacabile dalla mattina al pomeriggio e poi dal pomeriggio alla notte era passata mezza giornata da quando Yin era arrivato ed ecco che d'improvviso scese una nuvola simile al fumo dell'incenso in pochi istanti si fece così grande da oscurare il cielo fino a quel momento sereno tutto al tratto si alzò anche una raffica di vento lo specchio d'acqua del Sarusava fu infranto da una serie infinita di onde i presenti non fecero in tempo ad aprire bocca e dal cielo iniziò a scrosciare una fitta pioggia di gocce bianche cominciarono a imperversare tuoni laceranti mentre i lampi si rincorrevano incessantemente sopra la folla poi dalla nuvola spuntarono due zampe artigliate con una forza tale da sollevare una colonna d'acqua dalla nube di schiuma e fumo emerse davanti agli occhi di Ehi un tregone nero lungo almeno trenta metri che si alzò in cielo lasciando intravedere i suoi artigli dorati e sparpagliando tutto intorno i petali dei ciliegi che circondavano il laghetto inutile dire che a quella visione la marea di persone iniziò a correre qua e là presa dal panico quando qualche istante dopo la pioggia cessò e il cielo tornò sereno e Ehi si guardò attorno stupefatto e se non fosse stata tutta un'illusione aveva la sensazione che non fosse apparso nessun drago forse proprio perché era stato lui ad aver messo il cartello eppure l'aveva visto non c'era alcun dubbio per questo più ci pensava meno ci capiva qualcosa intanto la zia si era lasciata cadere come svenuta ai piedi della colonna lì accanto quando l'aiutò a rialzarsi non riuscì a nascondere il suo stupore avete visto il drago? le chiese timidamente la sacerdotessa respirò a fondo e senza dire una parola fece più volte cenno di sì con la testa poi gli rispose con voce ancora tremante l'ho visto l'ho visto era il dio dragone era tutto nero ne aveva gli artigli d'oro non erano stati solo gli occhi dell'archivista Eyn detto Eynasone a vedere quel drago in seguito provò a chiedere anche ad altri e tutti uomini e donne grandi e piccini dissero di aver visto il drago nero a scendere nei cieli avvolto in una nube tempo dopo Eyn confessò che quel cartello lo aveva affisso per scherzo ma nessuno lo prese mai sul serio nemmeno l'amico Emon dunque il suo scherzo poteva dirsi riuscito oppure era stato solo un buco nell'acqua sono sicuro che se lo chiedeste al monaco nonché archivista imperiale Eyn detto a Eynasone nemmeno lui sarebbe in grado di rispondervi un drago che viveva nel Sarusava è davvero una storia bizzarra disse al fine Uji da Enagon Takakuni chissà se c'è mai stato per davvero sì deve essere così un tempo tutti credevano che i draghi vivessero sott'acqua e che talvolta si manifestassero tra cielo e terra assumendo sembianze divine ma non fate troppo caso ai miei noiosi commenti voglio sentire le vostre storie ora tocca a voi monaco itinerante che ne dite volete raccontarmi la storia del bonzo dal naso lungo del tempio Zenki di Ikeno dopo aver sentito delle gesta del nasone di prima mi sembrerà ancora più interessante prego sono tutto orecchi di mi sembrerà di che mi sembrerà di